Heyo! Bella ragazzi, sono Darius e siamo oggi qui tornati con un incredibile video su Fortnite Qui come oggi ci sono Mollu, Marza e Ron Come sempre non risponderanno perché la intro è stata fatta a parte, quindi... GG Il link in sovraespressione servirà per seguirmi su Instagram, lo trovate anche in descrizione e in top comment Come per lo scorso video, aggiungiamo i 10.000 mi piace per un nuovo episodio insieme a tutto il gruppone Presto arriverà anche il duo leggendario E ricordatevi di votare il sondaggino in alto a destra per scegliere quale gruppo vedere nel prossimo video Non vi rubo altro tempo e buona visione Ragazzi, buon titolo No, è andata a vincere Si vince nel blu No, no, andiamo lì e poi andiamo a Moist Myr Blocchiamo tutti Io vado a Moist Myr allora, non vengo da voi E poi... Nooo Tu non me la trusti, non me la trusti Eh, se non me la trusti finisce così, eh, però Cazzo, sono in netto ritardo, ragazzi Si, Marzo? No, Marza, Marza, Marza Di più, Marza, di più! Vedi? Vedi che non devo venire? DMR viola Ho la pistolina Raga, ne ho due che mi stanno puntando Adesso, adesso morite tutti e mi dico Eh, è colpa tua Eh, mi sta fightando Oh, bello questo slurp Ok, raga, c'è uno C'è uno che sta venendo da voi Da dove? Qua c'è lo slurp Lo slurp non mi dà fastidio Prenderlo, eh Marzo, c'è qualcuno A questo cazzo di albero, raga È a vostro A vostro sud-est Verso di me C'è uno sul monte Ha lottato la casa Ha costruito e sta arrivando C'era un altro che sta arrivando sempre da lì Eh, madonna Oh, c'è uno qua dentro, Teo Arrivo Sì, è andato sotto È andato sotto, è andato sotto Corri per la vita, vecchio No, Deo, ma ce la fai, cazzo Se non stai a... A cercare la tua roba ce la fai Il problema è che ho sentito costruire qua sulla destra Quindi è probabile che avete gente dietro di voi Beh, basta guardare Sei sicuro che hai sentito costruire, eh? Diamoci in occhio a questo punto Ho sentito i legni che si univano Quindi penso proprio di sì Eh, diamoci in occhio, raga Da dove arriva Delo Ok, sono qua Io, raga, ho 300 di legna 150 di mattoni 30 di... Sono pieno di roba Mica male Beato te Oh, la zona, però, la nuova, la prossima è qua Eh, infatti, quello... Buono, come era breve Andiamo bordo a bordo Verso l'inizio dell'altro Dovrei anche io di sboscare La macchina di Jastron la ha in tendenza Boh, io comunque non ho visto nessuno arrivare da voi Cioè, da te Bom, andiamo C'è stato un problema di... Oh, eccoli, raga Vabbè? Vabbè, raga, sono un criminale Nei mancati No, l'ho preso in pieno A West Oh, come ha fatto a prendermi? No, l'ho preso di nuovo Vabbè, ma che cosa sono? Ma raga, ma con che cosa ci ha preso? Vabbè, raga, lasciate fa' Cioè, questo qua io lo carico con titolo da Coca Mi ciuccia al cazzo Da chi? Da Coca? Da Coca Da Coca Ma sono troppo forte Doppio hit? Sono veramente squilibrato Doppio hit? No, for*****o, cadu È one shot quello? Sì, ragazzi, ma... Ok, un incontro è andato Vi rendete conto che mi avete sparato a me? Hittato Aspetta, aspetta Michael Jordan Ah, ho sbagliato Marzo, 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 Marzo È matto, è matto Ho fatto anche lui Ma picconate sta andando in giro quello, ragazzi Bravi, raga Maronna Sangrispino, raga Ha picconato, ho visto andare in giro uno Tre kill Sì, c'era uno E una ha provato a prendermi a piccone Con le picconate, raga Però gli ho tirato un pompa E mi sa che è rimasto là infelice Raga, cecchino e pompa, se potete Eh, pompa non ne ho, cecchino Non ne ho, solo di AR AR ne ho Ah, AR ne ho 30, se ne avessi un po' di Eh, non mi la dimmi di AR A me se ne avete anche per me, please Di AR c'è lì, di AR c'è lì Allù, ne do 40 a giastrono Dai, Marzo, con calma No, fra, eh, ci sto provando E 40 a mo' lù Do ne hai bisogno, se non so Ah, ragazzi, non è che io, certo Ah, scusa, non ho fatto apposta, to, 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 vieni qua Ma sei proprio... Eh, ma io sono saltato lì, non l'ho mica fatta apposta E poi teoricamente eri vicino Con la hitbox grassa dovresti riuscire a prendere tutto La hitbox grassa Ah, non ti ricordi quel primo video che ti ho lanciato la granata Esplode, ti hai rimbalzata a 10 metri di distanza Fottuto adiposo anche nei videogiochi Oh, una pietra tagliata a metà, raga Una runa Una runa, una runa Oh, titolo, la runa dimenticata Non rompetela, non rompetela Mamma mia, fare tunnel in game Ok, guardami Eh, ma puoi registrarmi? Eh no Ma Amici Amici nel mulino Amici Si chiude qua a destra, raga, dovete tornare in giro Volete un pompino? Regà, ma seguiamo un po' sul... Come lo prende? Ma cosa c'è lì sopra? Ma no Stanno sparando... No, raga, ma sopra la montagna cos'è quel? L'acqua Ma no, sopra? Ah, non lo so, sembra il cappello di uno chef È un panettone, ragazzi Non c'è mai stato quella roba lì È vero È un quale, al paletto Non ci avevo pensato Ma cosa sta dicendo? Ah no, perché non c'è la texture Se ti avvicini Eh io non ce l'avevo Cosa che sarebbe? Non lo so, penso una casa Ma è bruttissimo, è fatto a quadrati Kissing Stranger Oh, c'è di fronte un... Occhio Fight qua sotto Allora avevo visto che qualcuno si costruiva Fermi, fermi Granata alla Michael Jordan Morto Un'altra arriva dalla montagna di... Tre, raga Oh, oh, da destra, raga Da destra in fondo, est Andate per... Da destra 75 Anche est Sì, 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 sotto sono Eh, raga, raga Raga, sinistra, sinistra, raga, sinistra Mollu, Delu Oh, è vero Occhio, marzo, la tua sinistra No, sinistra, sinistra Sinistra, sinistra, sinistra È proprio totale Dio, 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 Delu, Delu Sinistra qua Hanno costruito anche Ho visto Avete colpi di cecchino? Io ho qualcosa Non credo che E' un venti, fra Che ne si L'unica La poca cosa Ha terrati in fuoco Oh, oh, oh Mura, mura, Marta No, come si è spostà? E' quello sotto Io cazzo Ma non Uh, ma Fatto un rischio Porca troia Fermo, 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 fermo Vai, vai, vai In mezzo a due fuochi, cazzo Eh, no, a tre fuochi Eh, porca troia Ce ne abbiamo Questi che sono Quelli sotto E quelli a destra pure Eccoli davanti Mi sto faitando Che così vi do una mano a Uno è rimasto lì dietro Colpito Un colpo Metti il gioco Grazie per avermi messo i colpi Raga, mi servono munizioni della R Se no sono secco L'aventi delu a caso Eh, Marzo, mi servono munizioni della R Beh Merda Aspetta un attimo Ora, coccane Preso uno Gli ho levato un botto Vieni qua, prendi Dove cazzo stanno? Stanno ruotando giù da la montagna Stanno scendendo, stanno scendendo Sì, sì, sì Stanno ruotando Stanno scendendo Sì, sì, sì Guardali, guardali Qua sotto, raga Altri qua sotto Qua sotto dove? Ah, cazzo Io c'ho pochissime munizioni della R Ok, quelli sono scesi Fammi tirare una granata qua Nooo Eccoli, eccoli sul monte Dal monte là Raga, qua sotto, sotto a nord-est nella casa Ce n'è uno Cazzo Allora A nord-est Ah, ok Qua si sta costruendo, infatti Ma poi vediamo la casa o sopra? Di niente, ragazzi Allora, lì si stanno avvicinando col fumogeno No, il problema, raga, è che Sulla destra, dietro all'airdrop Ce ne sono alcuni Sul monte, sopra, sulla destra, in alto Ah, è vero La in fondo ce ne sono No, no, il cecchino Da dove, Marzò? Eh, da di fronte, 70G Ah, lì in cima, cazzo Eh, quelli là rompono il cazzo Sono poco sopra che si chiuderà la zona, eh Eh, ecco, due Hai le robe, Marzò? Quelli si giudiciano proprio Il problema, ascoltatemi, il problema è Quante munizioni abbiamo noi, in generale? Eh, io li sto spiegando un voto Eh, quello di sotto qua, infatti Raga, se facciamo una cosa d'astuzia Se facciamo il giro Andiamo sotto quelli a 60, 75 Tanto quelli si fighteranno prima o poi Eh, hai capito? Guarda, li stanno già pushando Eh, hai capito Raga, 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 di sotto Dietro l'autobus Dietro l'autobus Eh, l'ho visto, l'ho visto Niente, io ho finito le munizioni della R Sono a secco, mi dovete salvare Oppure andiamo qua sotto Andiamo qua alla casa Andiamo qua alla casa Eh, per forza, raga Perché è l'unica cosa Dobbiamo fightarlo, però, eh Occhio Madonna Mi hanno check-inato Male, male, male Una qua sopra con lanciagranate Due qua, raga C'è la trappola qua, eh C'è la trappola, povera Ok, io c'ho uno di B Sono qua sopra di me Non ho manco più band Io 5 HP, Cristo Un andato Non so dove sia l'altro Come arrivarci Bravo Bravo, raga E prendete quello che potete Andiamocene No, la trappola C'ho detto, c'era la trappola, cazzo Marzotti, tiro su un fly Sta fermo, sta fermo C'è quello lì che sta Aspetta Eh, noi andiamo avanti e vi diamo una mano Voi, voi bendatevi Eh, non ne ho No, no, si sta chiudendo Eh, sono qua Eh, marzo Ma ci sono due fortini a destra e a sinistra Eh, non mori, vai, vai, vai Eh, io pure, cazzarola Cazzarola Teo, 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 teo sulla sinistra Vieni sulla sinistra Vieni qua Dov'è? Eh, sta scendendo, eh È al bordo lì Fai giù un attimo che siamo in mezzo a tre persone Ho venti Eccolo qua, è qua, è qua È qua, zi Colpito uno Bravo, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, zio Non ho colpi, hai colpi di AR Sì, sì, vieni qua Veloce, veloce, veloce Butta, butta, butta Accato Bravo Occhio sopra, eh, Delu Occhio sopra Non puttare solo questo Andato, Delu Bravi È lì sopra dove stanno costruendo metallo Sono lì Sì, a prendere Due contro quattro Oppure due, due, due No, uno è tramortito tanto Quindi siete massi Oh, a destra Lì dove c'è l'albero Dove c'è l'albero Delu a destra Ok Ecco, l'ho visto, l'ho visto Stanno fai tanto anche tra di loro E ha rotto due contro due Contro due Due contro uno, regà Due contro uno Vai, vai, vai Ok, che stai Stai, stai, stai Bano, stai E lì dove c'è il metallo Carica armi Carica tutto Carica tutto Stiamo pronti a fightare Basta Eh, ma poi Tira su, eh No, no Dove c'è il metallo Sono morti Tira giù Tira giù Eccolo Sopra Sopra Perito 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 Ok, rega la zona Brava Delu Dai, stai Eh, vi tocca spaccare PORTA TROIA Cazzo Daglie Quante kill? Ah, io due Oto Io non fate i cinque Oto, Delu? Oto io È ora È ora Il gameplay Delu Beh, il video per te Delu C'è il un mi piace Nel video di Delu Ragazzi Ma io non stavo registrando il gameplay Ma come no? Meno male, meno male Allora apposta Meglio così Ragazzi partitone incredibile Marzone Marzone e Mollo Purtroppo sono morti alla fine Ma comunque abbiamo fatto Una partita della Madonna Esclusa la parte di Run in Simulator Vi invito a lasciare un mi piace Un commento Iscrivetevi al canale Se lo avete ancora fatto Ci saranno altri video di Fortnite Sia con loro che con gli altri Poi comunque Votate il sondaggino Per vedere magari Che gruppi potremo fare Noi ci vediamo alla prossima Ciao Sondaggione Sondaggione Grazie